ragazze buonasera allora io intanto inizio così chi vedrà la registrazione non deve aspettare troppo mi vedete ancora un pochino con gli occhi da malaticcia perché lo sono ancora mi sto riprendendo però ho sentito proprio l'urgenza di voler condividere con voi queste cose che mi prima c'è proprio stavano dentro di me e volevano uscire tipo demoni sai tipo proprio dei demoni che che mi spingevano fai questo video intanto buonasera a chi si è connesso non vi vedo purtroppo non vedo i vostri nomi se mi scrivete in chat io vi vedo e vi saluto però se non mi scrivete non riesco a capire chi siete allora faccio questo video prendendo spunto da un messaggio che mi è arrivato da una mia cliente con cui stiamo facendo un percorso veramente molto molto tosto ok il percorso diventa un magnete di valore ue paola eccola qua adesso finalmente riesco a vedere i vostri nomi ciao bella come stai e mi manda questi messa mi manda un messaggio molto incazzata dicendomi che appunto lei seguendo il mio percorso si sta appunto sta vedendo sta conoscendo altri uomini sta conoscendo diversi uomini e molto spesso succede che appunto durante queste conoscenze anche se anche se noi stiamo facendo un lavoro su noi stesse che belli questi cuori grazie e succede che appunto incappiamo o comunque ci attiriamo degli uomini che non rispecchiano ovviamente quello che noi vogliamo quindi magari a questa mia cliente l'era capitato e mi permetto di fare il suo esempio perché comunque era successo anche a me di incontrare uomini che fondamentalmente volevano soltanto farsi una notte via o comunque addirittura ciao bella addirittura mia le ha scritto lui no perché io sarei stato la tua isola felice quindi lui si era capito ciao celeste michela ciao ragazze addirittura lui insomma si era autodefinito come l'isola l'isola felice lei si era incazzata la sua isola felice lei si come cioè adesso soltanto perché mi fai due complimenti in croce tu pensi di essere il mio cioè il mio salvatore o comunque chissà che cosa credi di essere ed era tutta incazzata dice perché nonostante io comunque lavoro su messi lavori su me stessa continuo ad attirare questo tipo di uomini che appunto mi trattano come se io ciao michela come se io fossi una desperata una desperados una desperata e quello che mi è venuto in mente è proprio questo che ripeto lo sto dicendo perché è successo anche a me durante il processo di lavoro su noi stesse soprattutto se stiamo facendo un percorso di evoluzione qualsiasi esso sia adesso il mio di un altro succede succede che l'universo praticamente ci testi ok ci 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 faccia incontrare delle tra virgolette degli ostacoli delle persone sbagliate degli uomini che sono tutto fuorché degli uomini se cioè seri nel senso no pallosi seri nel senso come vogliamo noi perché dice fammi vede un attimo se questa ragazza veramente è vero che vuole quello che sta dicendo di volere ma non è che l'universo è uno stronzo cioè nel senso non è che l'universo si diverte semplicemente io penso questo che lui voglia tirare fuori da noi il meglio perché magari effettivamente noi a parole diciamo una cosa e dentro di noi non c'è questo allineamento tra quello che appunto pensiamo e quello che veramente c'è dentro di noi allora magari l'universo siccome sa meglio di noi ciò di cui noi abbiamo bisogno ci fa fare questi incontri un po di sgraziati degli incontri un po buonasera maria lietizia negli incontri che magari noi con il nostro cioè ragionandoci se li saremmo pure un attimo risparmiati avremmo detto ma che cavolo non mi può spianare la strada e farmi incontrare direttamente l'uomo della mia vita il principe azzurro quello che è e invece no perché evidentemente l'universo ripeto che sa meglio di noi meglio di te che cosa è buono per te quali sono i sassolini quali sono i passi passaggi che la tua anima deve fare per arrivare a quello che veramente è destinato a lei ti fa fare questi incontri però tu non ti devi disperare oppure sentirti uno schifo sentirti che non stai evolvendo che non stai facendo i passi perché ti attiri questi uomini molte volte questi uomini non è che rispecchiano te rispecchiano quello che tu non vuoi o comunque quello che ti serve per fare uscire cioè come io immagino come una spugna no per far uscire ancora di te a Napoli si dice con la cazzimma quella quell'energia che dice aspetta aspetta un attimo cioè per avere quella nitidezza su quello che mi serve e su quello che non mi serve perché forse la tua cioè forse dentro di te tu non ancora non ce l'hai ben chiaro allora l'universo te lo spiattella davanti ti dice te voglio aiutare ti voglio far vedere quello che non ti meriti così tu c'hai ben chiaro come ti vuoi sentire cosa veramente ti meriti perché ripeto molte volte quello che vogliamo a parole buonasera Cristina ciao quello che noi vogliamo a parole non non ce l'abbiamo ancora ben chiaro allora l'universo arriva per con con la sua energia maschile proprio da padre a dire aspetta ma fammi far fammi far fare a questa ragazza a questa figlia mia un po di chiarezza su quello che veramente perché magari ecco all'inizio questi tipi magari ci attraggono ancora ci attraggono sti tipi un po ribelli un po così ma fantastico però poi dall'altro lato ci vuole come dire non so come come aspettate un attimo che mi rilasso un attimo perché quando ho fatto ho deciso di fare questo video non vi dico avevo un'energia che mi ha tipo tempesta non riuscivo a controllarla se non l'avessi fatto questo video probabilmente sta esplodendo dentro ecco per dirti guarda tu puoi trovare sia un tipo che ti fa sperimentare la ribellione il senso di avventura la pazzia ma allo stesso tempo che ti fa sentire una dea che ti fa sentire amata e quindi molte volte ecco magari ce la ce le mette davanti questi personaggi un po stranoidi diciamo per dire guarda non è quello cioè in realtà hai preso un abbaglio non è cioè è quello nel senso che ok ti faccio sperimentare una parte di quelle caratteristiche che tu vuoi quindi l'avventura il coraggio però non ti accontentare cioè non soltanto perché ti piace soltanto perché tattizza soltanto perché ti fa sentire bella femminile non non ti accontentare solo di queste cose lì vai oltre però quell'uomo che magari non era quello che ti rispecchiava il tuo ideale comunque ti è servito ok comunque ti è servito per dire ok io voglio questo però non solo questo voglio anche quell'altro perché ricordiamoci ragazzi il nostro mantra deve essere l'abbondanza non possiamo più stare nella convinzione di scarsità di dire ok o mi fa sperimentare l'ardore quel senso di passionalità oppure deve essere un uomo che magari si mi fa sentire amata ma è moscio ma non mi fa sentire il batticuore cioè basta questa dualità basta questo senso di scarsità pensiamo a sentire tutto cioè a dire all'universo io voglio uno che mi fa sperimentare tutto cioè io voglio tutto e quindi buonasera Enrica quindi ecco non non prendiamo questi uomini che l'universo ci manda come una dannazione cioè come per dire ma sono sfigata oppure chissà quanto altro lavoro devo fare certo raga il lavoro su noi stesse è un lavoro che dura tutta la vita non finirà mai ma non è che noi dobbiamo essere guarite al cento per cento per attirarci l'uomo che noi vogliamo perché sennò buonanotte cioè non vi passasse per la testa che dobbiamo essere dobbiamo aver risolto tutte le nostre ferite tutti i nostri blocchi certo il lavoro da fare ci sta pure perché sennò non avrei creato il mio percorso ciao Enrica quindi lavoro da fare c'è ed è molto profondo e infatti io vi invito a farlo fatelo se non lo volete fare con me fare te lo con qualcun altro ma fatelo perché dentro di noi ci sono tanti di quei blocchi sull'amore sulla connessione sulla vulnerabilità che ci fanno ci fanno attrarre persone che poi ci fanno soffrire che voi non avete idea quindi il lavoro c'è da fare però buonasera Daniela però non non vi mettete in testa che fin quando voi non sarete guarite completamente allora non cioè non avrete mai il permesso di attirarvi degli uomini come si deve cioè degli uomini io dico con energia maschile buona con energia maschile guarita ok questo è il primo punto ok un'altra cosa che volevo dirvi è questa ogni volta che fate un'esperienza del genere quindi che incontrate uomini che non riflettono quello che voi volete non vi incazzate ok questo è un errore che ovviamente facevo anch'io mi incazzavo dicevo ma universo caro ma io ti ho chiesto sta cosa cioè io lo so quello che voglio e tu mi fai attirare uomini che magari vogliono solo sesso da me per dire allora è proprio cioè riallacciandoci al discorso di prima no del fatto che l'universo ci dà sempre quello che ci serve non poniamoci con l'energia del mi hai punita e quindi perché a me cioè perché a me come per dire perché mi hai fatto sto sgarro universo no poniamoci con l'energia della curiosità e del dire che cosa che cosa voleva diciamo capire la mia anima da questo incontro che cosa voleva sperimentare la mia anima cosa cosa c'è per me per me ma non che cosa c'è per me in senso negativo cioè perché è capitata a me sta persona perché proprio a me io ancora non incontro l'uomo della mia vita perché perché tipo bambini che sbattono i piedi per terra no ma invece con curiosità che cosa la mia anima voleva imparare da questo incontro e questa è una domanda che ti cambia tutta la vibrazione ti mette in una vibrazione di curiosità di sperimentazione di apertura perché ripeto ragazze noi c'è questa è una cosa che vale per tutta la vita non dobbiamo mai chiederci perché è capitato a me perché cosa c'è in questa esperienza in particolare adesso stiamo parlando di uomini cosa voleva imparare la mia anima da questo incontro e ti cambia tutta l'energia e non andiamo più a fare anche ecco perché molte donne anche si bloccano nel voler fare nuovi incontri perché vanno magari si scrivono sulle app oppure fanno nuovi incontri con un'energia della dell'attaccamento di non lo so con un'energia brutta che non le porta niente di buono invece l'energia giusta c'è giusta l'energia che ti fa sentire bene noi dobbiamo sta bene è mi approccio ai nuovi incontri con curiosità e anche se magari quell'uomo non è quello che mi ne aspettavo non fa niente prendo quello che mi serviva da quell'esperienza magari quest'uomo qua c'è una caratteristica tipo la gentilezza magari non era chissà che però era un uomo gentile quindi ok nel prossimo vuoto c'è l'uomo per me l'uomo ideale per me cosa deve avere la gentilezza deve essere gentile come questo che ho appena conosciuto oppure ne conosci un altro che appunto è pazzo è completamente magari ti dice ti vengo a prendere dai preparati stanotte così all'improvviso ti porto al mare e quindi tu magari anche se non è il tuo tipo perché magari capisci che è troppo fuori di testa è troppo non è affidabile però magari poi quel lato lì della non affidabilità che a te piace ti può servire quindi tu lo prendi e lo fai tuo e dici ok l'uomo che voglio voglio che abbia questa caratteristica della dell'avventura o comunque la fai tua questa cosa perché molto spesso il nostro subconscio ci fa attirare delle cose di cui abbiamo bisogno che sono dentro di noi cose di cui la nostra anima ha bisogno e ce le fa vedere attraverso altre persone che sono lo specchio no quindi ecco il secondo punto è non non chiederti perché è capitato proprio a me quest'uomo ma cosa c'è cosa la mia anima voleva sperimentare attraverso quest'uomo quale caratteristica aveva quest'uomo che io voglio trovare nell'uomo della mia vita oppure ancora meglio quale caratteristica però poi ne facciamo in un altro video ne parliamo meglio quale caratteristica ha attivato in me quest'uomo di cui io avevo bisogno avevo bisogno di sperimentare questa cosa e voglio fare mia questa è un'altra domanda molto potente ok di modo che le vostre esperienze future saranno saranno potenzianti ok non deludenti cioè vederle a lo sapevo incontro sempre uomini del cavolo che non mi fanno cioè che alla fine non mi servono a niente questo è un atteggiamento proprio che poi ti porta alla chiusura ti porta a chiuderti ok non ti porta più a fare nuovi incontri perché rimani sempre delusa e quindi ti scocci alla fine non proprio ti chiudi ti chiudi alle nuove esperienze un'altra cosa che volevo dirvi ecco questa è una cosa che mi piace tantissimo non pensare al risultato cioè non pensare adesso a raggiungere subito la meta cioè a dire ok sto facendo un lavoro su me stessa adesso mi aspetto che in un mese oppure in due mesi o in sei mesi trovo l'uomo della mia vita mi sposo faccio i figli boom questo è un modo di ragionare ragazze che avevo anche io molto maschile la nostra società aspettate che abbasso un po la voce sennò la gola inizia a farmi male di nuovo la nostra società molto maschile è abituata al raggiungimento di obiettivi no raggiungere il risultato quindi anche noi donne molte volte ci fissiamo troppo sul fatto voglio sposarmi voglio voglio conoscere la persona la mia vita sarò felice solo quando conoscerò l'uomo perfetto l'uomo adatto l'uomo ideale a me l'uomo ideale questo è un modo di ragionare ripeto molto maschile molto orientato al risultato però manca 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 una cosa manca innanzitutto manca una consapevolezza importante che è quella del fatto che l'uomo non ti darà la felicità che tu stai cercando se tu è una frase molto drita e ridrita ma se tu ci pensi bene non è non è che è l'uomo che ti dà la felicità perché non è che l'uomo è il tuo eroe cioè l'uomo può completare la tua vita ok però non è che tu hai trovato l'uomo e te sei risolta tutti i problemi tutti i problemi della tua vita ok no non è così quindi affidare all'uomo tutta la tua serenità e tutta la tua felicità non è cioè lo so che è una cosa che magari non dovrei dirvi perché dici ma come tu ci aiuti a trovare l'uomo e ci dici la felicità sì ok per me trovare l'anima gemella a parte che penso che ne esistano tante questo forse è un discorso che faremo a parte è una cosa importantissima per noi donne perché è un diritto cioè non diritto è un desiderio della donna trovare il suo uomo no però non possiamo non possiamo pensare che la nostra felicità arrivi cioè stare sempre nell'attesa e a pensare che la felicità arrivi soltanto quando ci fidanziamo quando ci sposiamo raga no cioè è una cosa che dobbiamo superare questa mi dispiace la dobbiamo superare dobbiamo lavorare su noi stesse che poi lavorare su noi stesse e fare madonna di andare a zappa la terra no non è così è un lavoro di di scavo che ti fa amare te stessa ti fa amare tutti i tuoi lati ombra insomma vabbè è un percorso molto bello e quindi c'è il succo è questo innamorati del processo innamorati del vuoto che esiste tra la situazione in cui sei adesso che magari sei single e la situazione in cui sarai dopo che magari sarai fidanzata sposata però in mezzo che cosa c'è in mezzo in mezzo c'è il vuoto c'è lo sconosciuto c'è l'ignoto ecco quello che nessuno dice è proprio questo di c'è in questo processo del processo nessuno dice di innamorarti dice no no tu sarai felice solo quando raggiungerei l'uomo l'uomo della tua vita l'uomo ideale l'uomo tutto quello che vuoi tu ma nel vuoto che cosa c'è c'è l'infelicità ci deve essere l'attesa la tristezza la frustrazione che tu ancora non l'hai avuto che come lo vogliamo trattare questo vuoto come lo vogliamo gestire dobbiamo cura dobbiamo prenderci cura di questo diva di questo vuoto che c'è tra quello che in cui noi c'è tra la situazione in cui siamo adesso la situazione che noi desideriamo che può essere una famiglia può essere avere dei bambini nel frattempo che cosa succede cioè nel senso innamor ecco il messaggio che voglio darti che è il più potente secondo me di questo video è innamorati di questo vuoto innamorati di questo processo che ti porta dalla tua situazione in cui sei adesso alla situazione ideale che poi scopri che magari arrivi sulla cima della montagna e dici ah era tutto qua e magari ti sei ti sei non ti sei goduta non ti sei goduta tutto il processo tutto tutta la la meraviglia magari che ti conduceva a quell'obiettivo perché stavi solo a pensare all'obiettivo e in una mentalità molto maschile ok di raggiungere un risultato però l'energia femminile è quella di godersi tutto il processo che ci porta da da una situazione a una situazione b quindi goditelo il processo godite le tue conoscenze che stai facendo in questo periodo non c'è andare con l'attaccamento a dire sarà questo sarà questo sarà lui sarà lui non serve cioè non serve vivere in questo modo è una è uno spreco proprio anche della nostra energia ed è un'illusione è un'illusione pensare ciao savvina ciao è un'illusione pensare che noi appunto saremo felici solo quando solo quando avremmo trovato l'uomo solo cioè ma poi ripeto scopri che arrivata su quel picco non non era come ti aspettavi ok quindi innamorati del vuoto innamorati del processo che ti porta da dove sei ora a dove sarai perché succedono tante cose belle in questo vuoto in questo processo e non lasciartele sfuggire abbi gli occhi per guardarle queste cose tutto quello che ti ho detto anche prima no pre da ogni uomo da ogni incontro nuovo che farai vedi c'è c'è tanta bella umanità anche nelle persone sbagliate c'è tanta umanità tante tante cose che possiamo fare nostre a questo serve a questo serve il mondo esterno per per farci scoprire dei lati di noi che sono sono dentro di noi però magari non li vediamo gli altri ci servono da specchio e quindi quando fai questi nuovi incontri ditti ok prendo queste queste caratteristiche di questa persona e le faccio mie questa è la cosa più bella innamorarsi del dell'altro ma non in maniera romantica in maniera proprio innamorarsi della vita ecco innamorarsi del vuoto vuol dire proprio innamorarsi di tutto quello che la vita ti mette davanti e che tante volte noi proprio non vediamo perché stiamo pensando a quel risultato da raggiungere non so se vi risuona questa cosa ora la mia gola si sta un attimo abbandonando sto sentendo anche esatto erica vivere il qui e ora è una cosa un po difficile se tu ci pensi no erica se ci pensate però perché dice oddio come faccio a vivere il qui ora ecco già il fatto di pensare come faccio già il pensare al come è una cosa della mente invece goditelo semplicemente noi donne siamo molto brave in realtà a viverci il momento se solo ci ricordiamo di stare un po più nelle sensazioni un po nel corpo goditi inizia godendoti l'aria che respiri il panorama che hai davanti le cose piccole c'è proprio le piccole cose lo so nella società di oggi non è facile perché ci hanno abituato a a ciao elisabetta buonasera ci hanno abituato a a pensare soltanto ecco alle cose grandi a vivere di di emozioni grandi ma in realtà stamattina io vi dico la verità io pianto perché non lo so c'era una musica molto bella ultimamente ho visto il film ti presento joe black se non l'hai visto guardalo e a un certo punto mi è uscita la musica di questo film e io mi sono ritrovata con questa musica a guardare davanti al mio paesaggio no il mio telefono si spegnerà tra 30 secondi ragazze quindi vi devo lasciare e quindi mi sono commossa davanti a questo paesaggio con questa musica quindi sono piccole cose che però se tu ci stai dentro ti fanno vivere in maniera tutta completamente diversa vi devo lasciare ragazzi perché si sta scaricando il telefono vi do un bacione ciao 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 ciao